Maddaloni e Mirko si sono fatti riprendere al museo, non so di preciso dove fossero, poi sono andati a cena a Scandicci, Fiorentina, non si può venire dalle parti di Firenze e non mangiarla, e adesso passeggiatina. Noi abbiamo finito di mangiare. Stiamo facendo una grande passeggiatina perché dobbiamo bruciare i grassi, perché ragazzi hanno una vera idea, mi sono mangiata la bestecca Fiorentina, cioè veramente era gigante, poi le patate, patate fritte, dolce, i cantucci, perché si sono mangiato anche i cantucci, è uno dei miei biscottini preferiti, e ora secondo me potremmo mangiare. Vai, ciao. No, amo, no. E queste sono le foto di oggi, Pitti immagine uomo Firenze, ultimo giorno, ciao.